Tornano quest'anno le lezioni di personal branding e self marketing per l'analogista durante le quali vi racconterò le tecniche e le modalità con cui potete utilizzare la vostra immagine, il vostro brand, costruire il vostro brand e utilizzare i mesi digitali per promuovere la vostra attività per l'appunto di analogista. Quest'anno il programma è completamente rinnovato, sono passati due anni infatti dall'ultima volta che ho tenuto queste lezioni e sicuramente sono successe tantissime novità. La prima è sicuramente l'avvento del video marketing che può aiutarci a sostenere e realizzare proprio questa comunità e questa immagine di brand personale indispensabile per costruire la professione di analogista. La seconda è proprio il lavoro che ho fatto sul concetto di carisma che può essere sviluppato e diffuso in rete e può aiutare, anzi aiuta tantissimo a sviluppare e a ricercare potenziali clienti per le proprie attività e soprattutto far conoscere quello che sono le potenzialità delle discipline analogiche. Quindi vi aspetto alle due lezioni di personal branding e self marketing per l'analogista con dei contenuti speciali e fatti proprio su misura per voi. Grazie.